Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno di viaggio, con questo bel nebbione, siamo partiti adesso dal parcheggio e vorremmo andare a visitare Chiusdino, stiamo andando a Chiusdino per vedere il paese, sperando non ci sia nebbia, ma anche lì, non c'è sicuro nebbia, speriamo che si tolga prima o poi, come ti senti? Informissima, tra 400 metri, svolta a sinistra e prendi strada provinciale 73 bis. Niente, è impossibile visitare Chiusdino perché la piazza che ci dà come parcheggio è occupata oggi dal mercato settimanale, quindi niente, abbiamo provato a scendere un po' sulla strada ma non segnala parcheggi, quindi non ci possiamo fermare a visitare il paese. fortunatamente ieri abbiamo deciso di dormire al parcheggio dell'abbazia, altrimenti, non so, insomma, stamattina ci avrebbero bloccato con il mercato, ci saremmo svegliati molto presto e non abbiamo letto di segnalazioni di mercato, probabilmente una nostra dimenticanza e nulla, va bene così. Adesso abbiamo impostato la strada per il ritorno e cercando di non mettere strada a pedaggio in modo da trovare un paesino, insomma, da visitare in questo ultimo giorno prima di arrivare a casa. Non so, adesso che cosa visiteremo, vedremo durante il viaggio. Eccoci qui, stiamo alla fine a Marina di Grosseto, ci siamo fermati un po' prima di pranzo, la strada verso casa, oggi è finita, si ritorna alle vecchie abitudini e alla routine, sempre pronti, già stiamo studiando il prossimo viaggio però. Adesso facciamo una passeggiata qui al mare, a Marina di Grosseto, abbiamo parcheggiato in un parcheggio qui, l'inverno è gratuito, proprio in riva al mare, facciamo una passeggiatina, mangiamo qualcosa e si va verso casa. Ci rivediamo all'arrivo, ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!